salve a tutti da mario santagati e da chess logger per i video problemi in questo in questo problema muove il bianco e vince bene vi lascio quindi alla risoluzione del problema e vi do appuntamento al prossimo video problema di chess logger con mario santagati sempre qui ciao e alla prossima